Francesca, cosa hai in mano? Volevamo raccontarvi che alla John Reed di Praga ci hanno venduto questa cosa che è un integratore, ma qual è la particolarità? Che non c'è l'acqua dentro. Ve lo giuro, potete controllare. Se andate alla John Reed troverete questo prodotto senza l'acqua dentro. Infatti c'è solo la polverina all'interno. Niccolò stava per piangere. Quindi ora, vedete che è sigillato, non dico cavolate. Quindi ti vendono la polverina senza l'acqua. Cioè, bastava mettere l'acqua dentro. Quindi sono abbastanza vari questi creatori di integratori. Adesso lo aprirò, sperando che sia facile. Ecco qua, lo apro. Ok, apro. Ecco qui. E come funziona, Niccolò? Non so. Così? Ecco qua. E... L'acqua si mette... Metti prima l'acqua, no? Ma che cosa devo metterla? Ma... E... Guarda le istruzioni. Sono le istruzioni. Sono le istruzioni. Ah, prima si mette l'acqua dentro la bottiglia. C'è scritto così. Così. Ok, la metto tutta direi perché serve. Ok. Dopo... E... Sì. Oddio, Niccolò. Sì. Vediamo cosa dice. Sì, si toglie... Guarda. Stira acqua. E poi cos'è questo? Metti il prodotto. Metti il tappo. Ah, metti il tappo. Metti il tappo. No, ma... No. Si apre così. Metti il tappo. Eh? Metti il tappo. Eh? E dopo cosa dice? Ah, e dopo... Shakeri. Così? Guarda cosa dice. Così? Guarda cosa dice... L'etichetta. L'etichetta. Cosa dice? In inglese si è scritto qualcosa? Eh... Sì, di shakerare. Ok. Quindi provo a sentire se c'è a gusto. Ok. Ci vuole tempo. Prova bene. Mamma mia. Se cavolo. La metto inizia già da adesso. Vai. C'è un pochetto, eh? Prova. Prova. Ok. Aspetta, vediamo se si sta... E c'è un pochetto. Ma prova a assaggiarla. Chiudi, chiudi, chiudi. No, 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 no. Fallo tu, fallo tu. Chiudi l'Iria, fallo tu. Apri, apri la cosa. Prova a sentire se si sente. Giusto? No. Vai. E c'è l'acqua? È solo acqua. È solo acqua. E poi? Non lo so, non lo so come si fa. Chiudi il video. Non lo so, non lo so. La vedi? Si buttano giù questi. Ok. Questi elementi che bucano in questo modo il contenitore. Ecco qua. E infatti ora sta scendendo il prodotto. Ecco. Chiudiamo. Ecco. Facciamo così. Madonna, guarda che colore. È pazzesco. Adesso sta prendendo colore. Sì. Che emozione. Ecco. Che emozione. Ok? Adesso la cosa sa. Ah, che schifo. Come da te? Eh. Ma è stranissimo. Da te però sa anche da fonte di bosco ma anche da polvere sa come. Forse devi sciacchere di più. Ma sa già. Ma sa già. Deve essere un tegatore serio per forza. Com'è Nicolò? Buonissimo. Buonissimo. Eh, guarda tutti i prodotti che ha dentro. Leggi. Eh. Eh, ma in cieco. Zasvor. Shizanora. Macca. Zinek. Vitamina Cd. Nisni. Obsach. Zucre. Vabbè, ho capito un cazzo. Però ho capito che ha la vitamina C e D, che ha lo zucchero e qualcos'altro. Bene, ciao a tutti dall'integratore che si crea sul momento senza l'acqua. Hanno risparmiato anche sull'acqua. L'acqua la devi mettere tu. Ciao. Ciao amici. Mettete slash fitness drink sport. Ciao. È una fregatura. Non compratelo. Ciao.